salve ragazzi che notte che luna che freddo che fa ed io ed io che ritorno a casa così tardi mamma mia spero che tutti voi vi troviate bene vi troviate molto happy come il video che ho fatto questa mattina spero vi sia piaciuto a me e io l'ho fatto non posso non voglio commentare quello che faccio io anche perché dovrei comunque grazie per seguirmi stiamo forando tra poco quota 30.000 visioni pazzesco grazie per tutto l'appoggio che luna che note che freddo e non tanto vendrà l'inverno oggi è stato calmino come giorno anzi ha fatto caldo però adesso freschi cielo ecco come potete vedere che note che note e che freddo e non tanto forse faranno 18 20 gradi bene 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 intanto che ritorno a casa giriamo qua facciamoci due giri tra le lirò lirò la sono contento che voi siete già in 150 ed apprezzate gli sforzi che faccio per creare qualcosa di nuovo e cerco anche di creare qualcosa che si possa vedere perché se no perché sprecheri io c'ho la radio e allora lì non c'è bisogno che riguardi altri ma qua allora uno vede si deve sempre far vedere cose interessanti che notte che cielo che luna che credo il freddo che mi andrà perché ieri ha fatto più freddo di oggi è ufficialmente iniziato l'autunno però sono stati dei giorni anche della fine d'estate tremendi invece dei giorni caldissimi adesso speriamo che venga di nuovo il caldo in autunno perché tanto non ci si capisce più nulla che clima fa che stagioni ci sono ecco sì beh come dire oggi c'è più l'illuminazione in questa strada e mi si guarda di più non so se questo è meglio o no che si guardi di più camminando di notte nel buio fra la vegetazione cielo nero e di fogliame spero che tutti voi stiate bene e che vi divertiate col mio canale santi gian fatto pensato ed ideato per tutti voi amici miei che notte che credo e luna come dire il mio viaggio già è arrivato a termine ma non a termine i meri si è arrivato a termine perché io sto arrivando a casa ecco forse meglio se tengo il cellulare molto più basso vi ringrazio di seguirmi di starmi letteralmente attesto e seguirmi fino adesso chiudo perché devo entrare già sono arrivato ciao grazie di tutto il ritorno che note che luna che freddo beh mica tanto qua che mi aspettano la mia biblioteca libri da leggere beh io adesso mi devo mettere lavoro perché voglio fare un sacco di video infatti per non stare troppo tempo senza caricarne uno sto facendo giusto questo però devo trovare delle tematiche nuove perché mi dicono da youtube crea altre gallerie di riproduzione e va bene una parola una parola creare cose nuove però ecco ci devo ci devo trovare una una svolta voglio rinnovare il canale con delle nuove produzioni e quindi eccetera anche aiuto da tutti voi che tanto mi seguite se avete delle proposte degli argomenti da proporvi degli interessi che volete che io parli di qualcosa già devo rispondere con dei video a degli amici che mi hanno chiesto di fare dei video sui libri e su sani gestuali in particolare e poi sul buddismo però ecco se qualcuno di voi anche delle proposte diverse e me lo faccio sapere io trattare o di evadere per quanto possibile cioè di realizzare quanto possibile bene ringrazio a tutti per la vostra infinita gentilezza e pazienza di seguirmi a questo ciao dal vostro santo e cian con affetto a presto io mi auguro che questi giorni possa produrre qualcosa di nuovo ciao